Il progetto del rigassificatore di Zaule per noi non esiste. Non lascia spazio interpretazioni la dichiarazione postata su Facebook dal sindaco Roberto Cosolini che ha così risposto alla domanda di un cittadino sull'impianto di Gas Natural. Proprio la multinazionale iberica nei giorni scorsi aveva rilanciato il progetto triestino sostenuto anche dal governatore Tondo e dal ministro Frattini che proprio ieri ha ribadito che sul rigassificatore si va avanti. Il nuovo sindaco però non è d'accordo. Io vorrei ricordare che quasi tutti i cittadini di Trieste hanno votato candidati non solo il sottoscritto che in campagna elettorale avevano chiaramente detto che il rigassificatore a Zaule è bene non farlo. Penso che di questa volontà si debba tener conto. Credo che il ministro Frattini che è venuto in campagna elettorale a sostegno dell'onorevole Antonione conosca bene la posizione anche dell'onorevole Antonione. La mia e quella della coalizione che mi sostiene è chiara e conseguentemente penso che ci aspettiamo dal ministro Frattini e dal governo piuttosto e soprattutto la concretizzazione definitiva di impegni che abbiamo sentito più volte compreso in campagna elettorale, tra i quali innanzitutto quello sull'investimento sul porto di Trieste e sulla piattaforma logistica.